Due miracoli, due modi di vivere la fede. Una guarigione strappata da una donna malata che sfiora appena Gesù nella folla e il dono della risurrezione che Cristo fa a una bambina. All'Angelus Papa Francesco si è soffermato sui due episodi presenti nel Vangelo del Giorno, sottolineando la forza e il coraggio mostrati dalla donna e dal papà della bambina. Oggi questa fede, che per i primi cristiani era sicura, può appannarsi e farsi incerta, al punto che alcuni confondono risurrezione con reincarnazione, ha osservato Francesco, che ha concluso, la parola di Dio di questa domenica ci invita a vivere nella certezza della risurrezione. Chi crede in Cristo si deve riconoscere perché promuove la vita in ogni situazione, per far sperimentare a tutti, specialmente ai più deboli, l'amore di Dio che libera e salva. La risurrezione di Cristo agisce nella storia come principio di rinnovamento e di speranza. Chiunque è disperato e stanco fino alla morte, se si affida a Gesù e al suo amore, può rincominciare a vivere, anche incominciare una nuova vita, cambiare vita è un modo di risurgere, di ressuscitare. La fede è una forza di vita, dà pienezza alla nostra umanità. Al termine dell'Angelus il Papa ha salutato tra gli altri partecipanti alla marcia Una terra, una famiglia umana, ispirata ai temi dell'enciclica Laudato Si, invitando singoli e associazioni a promuovere una ecologia integrale.